Aveva 57 anni Luigi Morello, comandante del distaccamento dei vigili del fuoco di Sala Consilina, uno dei comuni del Salernitano, messi in quarantena dalla regione. Da una decina di giorni dopo aver contratto il coronavirus, lottava nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Scafati, dove oggi il suo cuore ha smesso di battere. Alla sua famiglia l'abbraccio di tutti i vigili del fuoco d'Italia, il messaggio del capo nazionale del corpo Fabio Dattilio. Cordoglio, giunto anche dai comuni di Sala Consilina, dove Morello lavorava, e Teggiano, paese di cui era originario. Luigi era cittadino probo, fiero, servitore dello Stato, padre e marito incommabile. Lascia nella nostra comunità un vuto incommabile, per capacità morale, competenze professionali, dedizione alla famiglia, attaccamento alla nazione e al suo paese, in cui non ha fatto mai mancare il suo sapere, il suo agire. Diciamo che era uno che ci teneva dove viveva. È deceduto all'ospedale di Scafati anche un 84enne del posto, che era risultato positivo al coronavirus e che stava combattendo da giorni contro il virus nel reparto di terapia intensiva respiratoria. Continua dunque l'emergenza del Salernitano. Non a caso la regione Campania ha allargato la fascia della zona russa, disponendo il divieto di entrata e di uscita anche per il comune di Auletta, dove sono risultati positivi il sindaco Pietro Pessolano, il vice sindaco Antonio Adesso e un medico di famiglia. Sono risultati positivi anche 16 dei 23 tamponi effettuati nella casa di riposo di Sala Consilina, nella quale era risultato contagiato un anziano.